Ciao a tutti ragazzi sono il piccolo Rubio e sono qui per riparlarvi di Akotar, la corte di rose spine ovviamente nella parte non spoiler, la parte spoiler scusate perché devo parlare appunto di tantissime cose e non posso parlarmi senza fare spoiler allora ringraziamo tutti in coro la Mondadori che ci ha fatto questa grazia finalmente pare che il secondo esca giugno io non vedo assolutamente l'ora di leggerlo il terzo fosse a settembre considerando che c'è un gap estivo e continuerà anche la saga del Trono di Ghiaccio altra saga di cui vorrei parlarvi in una parte spoiler dove ovviamente ve la consiglio vi dico che cosa mi è piaciuto, non mi è piaciuto eccetera quindi io già conoscevo la saga J. Maas proprio per il Trono di Ghiaccio il primo mi era piaciuto veramente tanto, il secondo all'altezza del primo il terzo non mi aveva convinto onestamente e il quarto l'ho amato alla follia quindi io già conoscevo il modus operandi insomma della Sarah J. Maas conoscevo in qualche modo la sua scrittura ed è una scrittura che a me sinceramente piace perché onestamente la Sarah J. Maas ha il pregio di uno non lasciare nulla al caso cioè noi non sappiamo mai di protagonisti che fine fanno soprattutto poi in questo romanzo insomma tutti i protagonisti hanno una loro caratterizzazione e noi più o meno sappiamo il destino di tutti a parte il padre però il padre è veramente molto irrilevante come personaggio il padre è la parte passiva ma poi anche lì ci arriveremo e riesce a descrivere benissimo il war building perché comunque penso che questo sia molto importante soprattutto se tu scrivi un romanzo fantasy io per esempio quando lessi figli di sangue e ossa mi deluse per il semplice fatto che il war building non era ben caratterizzato cioè se tu mi crei un mondo totalmente nuovo un mondo come qui per esempio ho fatto di corti della primavera, dell'estate, dell'autunno, dell'inverno, dell'alba, della notte e quant'altro è ovvio che devi dare importanza a quello che stai scrivendo ovvio che io non è che pretendi di ascrizioni lunghe, pagine, pagine, pagine però dare la giusta importanza alle due cose e penso che la mass abbia dato sia importanza a tutto quello che concerne il war building sia per quanto riguarda anche l'aspetto dei personaggi quindi non ha trascurato assolutamente nulla anche per quanto riguarda poi la storia d'amaranta, la storia della maledizione anche lì non è una cosa solamente accennata e buonanotte sì vabbè questi tizi hanno la maledizione, prendete e portatevi a casa cioè ha fatto un lavoro veramente molto accurato e io l'apprezzo molto anche per questo perché comunque tutto quello che concerne ripeto il war building non viene buttato lì sì vabbè guarda ti do la cartina iniziale, ti orienti e ciao come per esempio anche nella regina delle ombre Queen of Shadow il mercato delle ombre viene descritto veramente in maniera impeccabile è come se proprio tu ti trovassi a dover camminare all'interno del mercato delle ombre che poi io amo i mercati con le bancarelle ma questo è un dettaglio anche qui noi ci caliamo molto bene in quello che è appunto il war building insomma è questa cosa che mi è piaciuta tantissimo allora il pregio secondo me della sala J.Mass è che innanzitutto sa scrivere anche scene di sesso la particolare differenza che io ho riscontrato tra il Tron of Glass e Akotar è il fatto che comunque Akotar è un po' scollacciatello insomma mentre comunque il Trono di Ghiaccio sì ci sono delle scene un po' osè però vengono fatte intendere, non fatte intendere ora prendete quello che vi sto dicendo fino dove io ho letto qua invece c'è molto scollacciamento insomma ci sono delle scene molto erotiche sono delle scene molto erotiche e la sala J.Mass le sa scrivere un altro pregio secondo me è quello di aver introdotto dei personaggi bellissimi tipo Tamlin che ci viene presentato come bellissimo però ha avuto la decenza di non dircelo ogni tre secondi come capita molto spesso per altre situazioni dove ogni tre secondi ci viene detto quanto lui sia bello, quanto lui sia figo quanto i suoi occhi siano del colore degli smeraldi che si trovano sul fondo dell'oceano e ci fanno due sfere del drago grosse così ecco la sala J.Mass dà una caratterizzazione dei personaggi che è bellissima che anche lì può essere opinabile sono d'accordo però il pregio è quello di non sfracellarci di Zebedee tutte le volte che appare Tamlin e lei deve sottolinearci quanto sia bello e quanto sia figo e un'altra cosa molto molto importante secondo me è la descrizione appunto delle scene erotiche perché secondo me scrivere una scena erotica è molto diversa da scrivere una scena porno perché c'è una bella differenza insomma diciamo che la sala J.Mass crea in qualche modo tutto quello che viene anche dietro insomma l'aspetto erotico mi spiego meglio quando si descrive una scena erotica si dà anche molta importanza alle sensazioni a dove ci stiamo trovando all'aspetto anche insomma del preliminare ecco non è che arriviamo subito al dunque quindi c'è tutta una lavorazione diciamo così che non si vabbè i due si accoppiano orgasmi che partono e buonanotte come spesso capita in alcuni libri dove ci viene sottolineato insomma grandezza, grossezza, urli cose disumane, posizioni che il kamasutra allevate proprio lavatrici a volte eccetera eccetera diciamo che sala J.Mass finalmente no, sala J.Mass ha il pregio comunque di scrivere una scrivere scene erotiche e questa cosa l'ho apprezzata tantissimo perché ripeto scrivere una scena erotica non è facile perché si può sempre scadere nel ridicolo scadere anche nel volgare che poi bisogna anche definire che cosa è volgare per me è volgare una scena dove tu mi dici per file per segno l'anatomia del genitale di lui quando a me onestamente non frega assolutamente niente diciamo che devi trasmettere anche sensazioni profumi, odori e quant'altro quindi questa cosa l'ho apprezzata tantissimo per quanto concerne i personaggi allora i personaggi sono molto interessanti come vi ho detto nella parte non spoiler Tamlin che sarebbe il corrispettivo della bestia perché questa è una rivisitazione della Bella e la bestia è un personaggio che onestamente non mi ha del tutto convinto cioè l'ho apprezzato non l'ho apprezzato diciamo anche lì che la massa comunque non ha esagerato nei modi perché comunque la bestia della Bella e la bestia quel cartone della Disney è veramente molto cruente è molto brutale anche se poi si addolcisce però insomma all'inizio insomma c'ha dei modi un po' un po' bruttarelli insomma ecco diciamo che secondo me la massa è quello che ho percepito io è il fatto che è vero che Tamlin ha questi comportamenti molto aggressivi nei suoi confronti però poi alla fine questi comportamenti non sono come dire iperbolizzati termine che esiste comunque non sono esagerati e questa è una cosa che io ho apprezzato molto devo dire che ho preferito Rizan da Tamlin onestamente perché Rizan è quello quello un po' stronzo però poi alla fine non sai se rimane essere stronzo oppure può cambiare diciamo che Rizan è molto più imprevedibile rispetto a Tamlin Tamlin l'ho visto dall'inizio alla fine sempre prevedibile perché poi alla fine insomma era prevedibile un certo tipo di comportamento da parte sua ovvero del fatto che lui lascia la libera Fera che Fera poi torna a casa che insomma lei poi ritornerà eccetera eccetera quindi diciamo che Tamlin ha questo comportamento aggressivo ma anche protettivo insomma nei confronti di Fera e questa cosa insomma l'ho apprezzata ma ripeto Tamlin non è che mi ha fatto impazzire più di tanto e mi è piaciuto anche il personaggio di Lucien Lucien che mi è piaciuto di più di Tamlin che non è la solita macchietta che sta lì che fa ridere di qua e di là presentata appunto come il lacche della situazione ma è un personaggio con tutto un war building ma secondo me la grande particolarità di questo libro rispetto comunque a il trono di ghiaccio perché comunque anche nel trono di ghiaccio abbiamo la stessa cosa ovvero una protagonista un po' più risoluta rispetto alle altre protagoniste che magari si possono incontrare in vari romanzi anche se da un po' di tempo a questa parte le protagoniste anche loro si sono un po' svegliate insomma però insomma sia Selina che Feira sono delle protagoniste abbastanza risolute e la cosa che mi è piaciuta più di più rispetto al come si chiama al tono di ghiaccio è il fatto che sono proprio le donne a prendere l'iniziativa e sono proprio le donne ad avere il potere anche in il come si chiama il trono di ghiaccio noi abbiamo Selina che comunque deve combattere contro gli uomini eccetera eccetera però c'è sempre questa imposizione cioè alla fine della fiera il re è sempre uomo alla fine della fiera soprattutto nel quarto noi abbiamo la cara Selina che deve lottare e in qualche modo imporsi con la forza a volte su sugli uomini ecco qui invece mi è piaciuto il fatto che comunque alla fine della fiera sia Feira che salva Tamlin quindi che lei prenda l'iniziativa vada al regno sotto la montagna e affronti a spada tratta insomma a muso duro a Maranta e a Maranta che è un personaggio veramente molto potente e molto forte cioè a Maranta non viene presentata come la cattiva che fa cose cattive che salina il suo castello e buonanotte a Maranta ha in mano tutto il potere della città che adesso non mi ricordo cioè del continente Pritian sì dove chiamarsi Pritian il continente sì Pritian bene quindi la la particolarità sta proprio in questo del fatto che a Maranta ha in mano tutto il potere e i superiori sono dei maschi sono degli uomini che sono soggiogati a questo suo potere quindi dei tratti puramente maschili sono attribuiti alle donne come per esempio il fatto che Fiera va da caccia che Fiera si prenda cura della famiglia perché il padre non è in grado perché il padre non ha mai superato la morte della moglie perché il padre non ha voglia insomma quella cosa lì non viene ampiamente approfondita quindi il fatto che Fiera imbracci un arco e vada a caccia che scuoi poi la insomma la fata e ne venda la pelle cosa proprio tipicamente maschile quindi il fatto che l'uomo si debba prendere cura della famiglia andare a caccia eccetera eccetera e di amaranta che riveste una posizione sociale molto importante perché amaranta tiene in scacco tutti vabbè che poi muore poverina perché io l'ho amata talmente tanto quindi la povera amaranta crepa ecco insomma io speravo che fosse ritornata nel secondo però vabbè quindi tratti tipicamente maschili attribuiti a delle donne e tratti puramente femminili attribuite invece ai maschi perché quando voi state leggendo il romanzo ad un certo punto arriva Rizand che è il personaggio che io ho amato di più e Rizand viene paragonato alla puttana di amaranta ecco diciamo che questa cosa mi ha fatto un po' sorridere e mi ha fatto un po' insomma lasciare basito perché ho detto magari la massa è fan di beautiful però non ce lo vuole dire comunque il fatto che una persona maschile si prostituisca nei confronti di amaranta che viene definito in senso dispregiativo ma è un dispregiativo che magari può essere accostato ad una donna quindi il termine puttana che viene proprio dispregiativo vuol dire persona con bassi istinti che si vende per poco viene attribuita ad un uomo noi non sapremo mai onestamente o almeno io non ho percepito se alla fine tra amaranta e risand c'era una specie di liaison insomma c'era del rendezvous facevano cose insomma questo non l'ho percepito però proprio questa particolarità di usare un termine dispregiativo puramente femminile su un uomo appunto risa viene definito in quel modo brooke logan viene definito in un'altra maniera però risand viene definito in quella maniera viene definito proprio in senso dispregiativo risa sembra totalmente fregarsene di questa cosa però insomma ho apprezzato anche questo il fatto che abbiamo delle figure femminile molto risolute come feira che anche se comunque a tratti l'avrei voluta prendere a schiaffi una persona molto potente come amaranta che alla fine ha in mano tutto il potere dei fe maggiori quindi di pritian e un risand che in qualche modo insomma fa l'escort ecco insomma adesso non so se puramente si fa pagare e diciamo che anche risand usa delle cose tipicamente femminili perché se voi avete insomma un quadro generale della situazione sono sempre le donne che usano l'inganno che usano comunque insomma il fatto di persuadere e poi alla fine te lo mettono in quel posto in questo caso è proprio risand che usa queste tecniche queste tecniche sono puramente femminili come la minaccia la lusinga il fatto di usare il suo fascino ecco insomma quindi questo tratto sia del volersi vendere tranquillamente alla cara alla cara amaranta sia anche al fatto di usare le lusinghe sono cose che insomma nell'immaginario collettivo o comunque se voi leggete le fiabe o avete una cosa portamente della disney sono cose tipicamente femminili nella parte non spoiler ho detto che il finale è quello che mi ha convinto di meno ecco io penso che l'andamento della storia sia molto molto lento è vero che comunque è un bene perché noi ci caliamo tantissimo nel mondo di pritian ci caliamo tantissimo nella psicologia dei personaggi nel rapporto Tafferfeira e Tamlin anche nella storia della maledizione che io ho trovato veramente molto molto geniale che poi ci sarà la parte insomma dove Tamlin si deve accoppiare così anche con la parte l'ho apprezzata tantissimo che mi ha ricordato molto i baccanali di Dioniso ma questo andamento poteva continuare anche nella parte finale del romanzo che è la parte un po' più corposa perché che cosa succede Feira ritorna a casa come come Marlena a casa scoprirà poi che la sorella antipatica la sorella è veramente molto antipatica sa tutto riguardo Tamlin la bestia che l'ha portata via che non esiste nessuna zia che comunque Tamlin ha mantenuto economicamente la famiglia eccetera eccetera lei parte ritorna appunto a casa dalla bestia e vede che la bestia non c'è più parlerà poi con la domestica che le dirà appunto che la tizia è stato portato via dalla cara Maranta che ha fatto un po' un esploi e lei dovrà affrontare delle prove ecco queste tre prove sono molto interessanti molto belle anche qui non è l'uomo che attraverso le prove salva la donzella ma è la donzella che attraverso le tre prove salva l'uomo e questa cosa io l'ho apprezzata il punto è che queste tre prove vengono un po' buttate lì sinceramente si poteva dare molto più patos alle cose tra la prima e la seconda prova c'è pochissimo anche tra la seconda e la terza prova passa veramente poco lasso di tempo proprio perché la parte finale è molto più veloce rispetto alla prima rispetto a tutto quello che viene prima insomma della prima insomma delle tre prove quindi dell'arrivo di feira della maledizione e quant'altro che ripeto ci poteva anche stare ma questa introspezione questa accuratezza poteva essere poteva essere lasciata anche alla fine e arriviamo poi alla scena madre che ovviamente è quella dove Rizand ricatterà o con l'inganno insomma riuscirà a farsi strappare una settimana al mese alla corte della notte quindi lei dovrà trasferirsi per una settimana alla corte della notte e al fatto che poi feira muoia e diventa un fe maggiore ecco questa parte mi ha ricordato un po' Twilight anche se comunque la trasformazione di Bella Swan arriva molto più in là rispetto a insomma rispetto a feira che avviene nel primo volume però anche questa parte che doveva essere ricca di pathos che doveva essere ricca di insomma ricca di emozioni perché sta succedendo una cosa veramente molto importante viene un po' buttata lì ecco perché io ho dato al libro 4 stelle e non 5 ho trovato un po' ridicole e banale la parte dove feira va alla festa con Rizand che balli che non si ricordi niente ecco quella parte lì sinceramente è un po' ambigua onestamente anche perché poi non sappiamo se il caro Rizand ne approfitti o meno ecco questa parte qui mi ha fatto un po' storcere il naso onestamente ecco perché ha fatto abbassare un po' il voto al libro sta di fatto che comunque è un libro che ho apprezzato è un libro che mi è piaciuto è un libro che si legge tranquillamente è un libro che nonostante sia scritto in prima persona sia molto introspettivo anche questo è un dato positivo perché comunque molto spesso la scrittura in prima persona tende un po' a far perdere quello che è tutto quello che circonda il world building e quant'altro quindi nonostante la massa abbia usato una scrittura in prima persona è riuscita a fare questo cosa che per esempio non è successa con la De Iemi per dire vabbè che lei è somma giovincella però ci sono stati anche altri romanzi che adesso non mi ricordo sinceramente non mi ricordo dove ci sono concentrati molto sull'aspetto sentimentale e comunque sull'aspetto di che cosa sto guardando io filtra tutto attraverso i miei occhi che non che cosa sta succedendo intorno a me io non sono un fan della prima persona onestamente però in questo caso penso che sia che sia alzeccatissima molto bene il video spoiler è finito fatemi sapere voi che cosa ne pensate del romanzo fatemi sapere voi che cosa avete trovato cosa non avete trovato fate sapere tante cose belle vi mando un grosso bacio io la maglietta di Cersei e ci vediamo al prossimo video ciao